Nonostante l'aumento dei contagi, l'appuntamento di Capodanno con la fiera antiquaria di Arezzo ci sarà. I banchi si sistemeranno nel tradizionale percorso lungo le vie del centro, sabato primo e domenica 2 gennaio. Il via libera è arrivato dopo il confronto che il comune ha avuto con la prefettura. Sul tavolo le disposizioni e le restrizioni previste dal cosiddetto decreto festività, l'ultimo in ordine di tempo firmato dal governo che tra le altre misure anticontagio ha disposto anche lo stop alle feste in piazza per la notte di San Silvestro. Dopo 17 anni torna quindi l'antiquaria per Capodanno, ha annunciato l'assessore Simone Cherici. Abbiamo parlato con il prefetto Maddalena De Luca e al termine dell'incontro possiamo dire che la fiera di gennaio si farà. Il percorso sarà quello consueto, lungo le vie del centro e massima attenzione sarà ovviamente riservata a tutte le prescrizioni, a partire dalle ultime indicate nel decreto. Dalle verifiche del super green pass per passare poi a quelle misure che dal ritorno dei banchi della fiera hanno caratterizzato gli appuntamenti con l'antiquaria. Qualche cambiamento è già in programma come ad esempio lo stop alla colazione per gli espositori che avrebbe dovuto ottenersi il primo gennaio. Gli espositori torneranno in piazza grande dove si è concluso lo scorso 26 dicembre l'evento del villaggio tirorese e della casa di Babbo Natale come tutto il resto delle iniziative al chiuso. Al prato rimarrà aperta la ruota panoramica e gli stand natalizi con l'eccezione della casa di Lego che invece non c'è più. Aperti fino al giorno dell'epifania invece i mercatini di Natale di piazza San Jacopo e piazza Risorgimento.